41 minuti dopo le 8, come preannunciato anche nella nostra anteprima e nel sommario, oggi una puntata quasi tutta dedicata alla prossima giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona, in Portogallo. La bellezza di questi eventi è che vengono coinvolti i giovani da ogni parte del mondo, ci sono gemellaggi tra diocesi, momenti di catechesi, ma anche momenti di incontro, di condivisione e di fratellanza. E c'è un educatore di azione cattolica che ha deciso di scrivere una lettera ai giovani che partiranno per la GMG. Antonio Daniele in collegamento Skype con noi. Buongiorno, benvenuto Antonio. Buongiorno, buongiorno Paola. Allora, sei collegato a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo perché appunto sei educatore di azione cattolica di San Marco e Lamis. Senti, una domanda al volo, ma hai mai partecipato a qualche giornata mondiale della gioventù? Io ho partecipato alla prima, ma non lo sapevo perché nel 1984 il nostro insegnante di religione ci ha portato a Roma, ma non riuscivo a capire che era la prima giornata mondiale della gioventù nel 1984. E poi a quella di Tor Vergata con Giovanni Paolo II è stato il clou del mio cammino pure. È stata una cosa meravigliosa. Beh, insomma, come dire, hai collezionato due GMG importanti. La prima e poi credo quella, non so che, rimarrà sicuramente nel cuore, nella mente di tutti. Tor Vergata è stato un evento memorabile. Era il 2000, l'anno del giubileo. Allora, hai scelto, hai scritto questa lettera per i giovani guardando alla prossima giornata mondiale della gioventù a Lisbona. Com'è nato questo pensiero? Cosa ti ha spinto a scrivere ai tuoi giovani? Allora, la prima cosa che mi ha spinto è stato che, penso che sia soltanto un problema di San Marco Illami, ma un problema un po' di tutti, che dopo la pandemia abbiamo avuto difficoltà a radunare i giovani, a fare un cammino stabile con loro. E quindi li volevo trasmettere la bellezza di un cammino ordinario all'interno di una comunità parrocchiale, in un gruppo, in un'associazione. E questa lettera parte proprio di là, parte dalla mia storia per capire come è nata la mia adesione a un gruppo e come può essere utile, come mi ha cambiato in meglio l'adesione a questo gruppo e come può essere utile a tutti. Adesso, in vista della giornata mondiale della gioventù, noi ci siamo preparati in questi anni, anche se come gruppo non andremo, però in questi anni abbiamo fatto un cammino ordinario, proprio sul tema che Papa Francesco ci ha mandato. E quindi eravamo pronti, anche se virtualmente staremo qua a casa, davanti al PC, al televisore, però idealmente saremo tutti presenti lì a Lisbona. È così. Purtroppo non tutti i ragazzi, anche perché i costi del viaggio e della permanenza in Portogallo sono un po' alti, quindi non tutti i giovani potranno appunto godere. Le scadenze erano molto prima, perché i giovani non sono abituati ad avere scadenze 5-6 mesi prima di un evento, insomma, anche questo secondo me ha determinato un po' qualcosa. Ah, vedi, anche bene, grazie per questa puntualizzazione, tu frequenti i giovani, questo gruppo, e quindi sai bene di che cosa parli. Quella di Lisbona sarà sicuramente una GMG importante dopo lo stop dovuto alla pandemia, dovuto al Covid. Quindi davvero questa estate del 2023 si ricorderà per questo grande raduno a Lisbona con Papa Francesco. Tu, appunto, questa lettera e la consegna di questa lettera ai giovani avverrà oggi, è vero, alle 19 in piazza Oberdan a San Marco in Lamis. Ecco, in qualche modo che cosa dirai ai giovani? Sì, comunque dovete, che cosa dovranno mettere nello zaino? Non tanto per la GMG, che voi appunto seguirete in modo virtuale, ma nello zaino per la vita. Che cosa dovranno mettere, anche alla luce della tua esperienza? Sì, secondo me devono mettere incontri significativi, sguardi significativi e parole significative. I nostri giovani sono immersi in tanti discorsi, in tante realtà virtuali. L'incontro di Lisbona, insieme a tanti altri giovani, è reale invece. Ci saranno migliaia e migliaia di giovani che faranno proprio l'esperienza di un vissuto a di là dei rapporti così virtuali. Secondo me questo c'è bisogno. La Chiesa, ma anche tutti i gruppi, tutte le parrocchie attendono con ansia affinché da questo incontro esca qualcosa di molto, molto positivo. Ci sono tutti gli estremi per capire che sarà un incontro importante, perché veramente migliaia e migliaia di giovani, e meno gli organizzatori, si aspettavano che in questa giornata partecipassero così tanti giovani. L'importante è che quello che uscirà fuori siano veramente incontri che facciano cambiare strada oppure diano sostanza a ciò che facciamo normalmente. E per dire che i giovani non sono quello sparuto gruppo che vive in una comunità parrocchiale, quei 10, 15, che stanno in parrocchia, ma sono migliaia e migliaia e migliaia di giovani che vogliono camminare insieme ascoltando Papa Francesco, ma soprattutto ascoltando il Vangelo e la parola di Dio. Allora, Antonio, ricordo, non l'ho fatto all'inizio del nostro collegamento, la lettera che tu hai scritto, questo opuscolo, che è appunto dedicato ai giovani, si intitola Il tempo di alzarsi è adesso. Quindi davvero un bel monito, forte, però sicuramente carico di tanto affetto. Chiedo alla regia se possiamo mostrare appunto la copertina di questo opuscolo, ecco, di questa lettera che tu hai scritto ai giovani, Il tempo di alzarsi è adesso. E ricordo che sarà presentata e consegnata, eccola qui, bella anche questa immagine, ecco, del giovane con zaino in spalla che percorre questa strada al tramonto o all'alba, non sappiamo bene, però è significativa questa immagine. E appunto, come dicevo, la presentazione e la consegna di questa lettera si svolgerà questa sera alle 19 in piazza Oberdan a San Marco Illamis. Appuntamento rivolto a tutti i giovani, ma anche a quanti educatori, genitori, amici vorranno essere presenti. Com'è lo stato di salute dell'azione cattolica a San Marco Illamis, Antonio? Noi veniamo fuori da venerdì, l'ultimo giorno, dell'estate ragazzi che organizziamo. Lo stato di salute è buono in questo momento. L'unica cosa che a volte l'impegno dei giovani è a tempo. Abbiamo decine e decine di giovanissimi per quanto riguarda le state ragazzi, un gruppo 25 giovanissimi che normalmente fanno attività durante l'anno, un gruppo giovani tra 10-15 giovani, però sono persone che scelgono di partecipare in maniera ordinale, cioè vengono settimane all'incontro, alle iniziative che si programmano, a tutto ciò che facciamo. Quindi siamo una piccola ma bella realtà significativa all'interno della comunità. Cerchiamo di coniugare sia la catechesi, il cammino di fede, con la realtà di vita che c'è nel nostro territorio. Ricordo che proprio durante l'estate ragazzi abbiamo inaugurato sia la panghina dell'audato sì, quella di Papa Francesco, perché la nostra estate ragazzi voleva far passare il tema dell'ambiente attraverso l'enciclica di Papa Francesco, che abbiamo piandato un albero, il pino della legalità, che ci ha consegnato proprio l'arcivescovo, da piandare in ogni realtà dove si svolgeva l'estate ragazzi. Che meraviglia! Tu poi, Antonio, sei anche l'esempio che ci si può dedicare ai giovani, come dire, anche, soprattutto non trascurando il lavoro e la famiglia, perché tu di professione non fai l'educatore di azione cattolica, ma hai una professione anche che, insomma, molto impegnativa. E quindi è bello anche questo, comunque, riuscire a ritagliarsi del tempo, perché no, magari anche se sacrificando un po' di tempo libero e le ferie estive per stare con i giovani. E come diceva Giovanni Paolo II, non so se ti ricordi, a Tor Vergata, stare con i giovani si resta giovani, si rimane giovani, è giusto? Sì, 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 sì. Ma siamo sempre giovanissimi. Stasera avremo, se non avranno impegni, quelli che negli ultimi 30 anni hanno fatto parte del gruppo giovani della nostra associazione. E quindi avremo la possibilità anche di stare, cioè anche se diventano adulti, adesso vengono i figli di quei giovanissimi che parlavano di 30 anni fa facevano parte del gruppo. Ecco, si sentono e vogliamo sentirci sempre a parte questa famiglia che è la comunità parrocchiale, che è l'associazione, che è il cammino di fede che non ci lascia, insomma. Bene, io ti ringrazio di cuore. Allora voglio mostrare un'altra volta la copertina di questa lettera che oggi appunto sarà consegnata ai giovani alla vigilia di questo importante appuntamento che è la GMG di Lisbona. Il tempo di alzarsi è adesso. Antonio Daniele scrive una lettera ai giovani appunto in preparazione alla GMG di Lisbona. Grazie per essere stato con noi, caro Antonio. Speriamo di rincontrarci presto, sempre per altri avvenimenti, incontri ed eventi che riguardano l'azione cattolica dei giovani e dei ragazzi di San Marquillamis, ma non solo. Se ci sono altre notizie che riguardano quello che succede a livello nazionale, siamo pronti a dare notizia, a fare da cassa di risonanza, insomma. Grazie ancora, buona giornata. Grazie. Grazie a tutti voi e buona giornata a tutti. E buona GMG. Grazie ancora Antonio. Daniele, purtroppo non avete visto il sottopancia, come si chiama in gergo tecnico, perché abbiamo qualche piccolo problema, ma cercheremo di risolverlo. Comunque ci siamo collegati con Antonio Daniele, educatore di azione cattolica, che appunto ha scritto ai giovani a pochi giorni dalla GMG di Lisbona. Bene, io vorrei ricordarvi, ancora una volta abbiamo parlato di GMG, che oggi il numero WhatsApp, se volete, sarà anche dedicato ai vostri ricordi, legati alle giornate mondiali della gioventù vissute, ma perché no, anche partecipate da casa, guardandole attraverso la televisione. 331-737-8033, numero che serve anche per condividere con noi e con i nostri telespettatori le vostre foto, località di vacanza, villeggiatura, oppure quello che vedete dal balcone della vostra abitazione. 331-737-8033. Anche in questo caso sono, come dire, costretta a ricordarlo più volte, solamente in maniera orale, perché come vi dicevo, non abbiamo purtroppo questa mattina i sottopancia. Bene, ci fermiamo qualche istante. linea alla regia, andiamo in pubblicità e poi torneremo di nuovo insieme per parlare di GMG e non solo.